Amici, bentornati nel Museo Civico di Beriguardo. Oggi vi volevo presentare la stela di Halus. Come vedete è una stela, come vi avevo già detto, un segnacolo tombale. Molto breve, sono tre righe. Halus Augustae Saltuarius. Attenzione, non ho sbagliato. Augustae, non Augustae. Augustae è latino medievale. Augustae latino classico. Tradotto vuol dire Halus Saltuario dell'Augusto. Dunque, l'Augusto era l'imperatore. Quindi questo signore lavorava per l'imperatore ed era un Saltuarius. Cosa è un Saltuarius? Beh, un Saltus in latino era un latifondo. Come vi ho già detto, buona parte dei terreni che c'erano tra Ferrara, dove oggi sorge Ferrara, ma in epoca romana ovviamente non c'era, fin verso, oltre il porto maggiore, verso il mare, erano un grande latifondo di proprietà imperiale. Bene, questo Saltuarius era colui che conduceva questo latifondo per conto e il nome dell'imperatore, quindi un personaggio decisamente molto importante. E questa è la stela dedicata a questo Halus Augustae Saltuarius. Buona giornata. Grazie.